Ci siamo, siamo arrivati allo sprint finale di questa campagna elettorale molto emozionante che ci ha visti tutti i protagonisti. Ma ora l'ultimo sforzo, il domenica, il 21 novembre, si vota dalle ore 7 alle ore 23. Basta apporre una X sul candidato sindaco Gianni Rotice. Mi raccomando, non fate altri segni sulla scheda elettorale perché la scheda potrebbe essere annullata. Quindi, numerosissimi, andate a votare Gianni Rotice, candidato sindaco. Domenica, vi aspetto. Un bacio a tutti.